ciao a tutti ragazzi sono te del Lemory benvenuti in questo nuovo video Reaction oggi sono come fare Reaction a Klaus i segreti del Natale visto che ormai manca poco Natale siamo a circa poco più di metà novembre e cosa volete che sia ragazzi in meno di un attimo sono già Natale quindi perché non fare questa Reaction bene vediamo che cosa si tratta vimpiccerisco la webcam ok così tra l'altro devo spizzarmi perché veramente un sacco di ration da registrare quindi via 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 vimpiccerisco ancora un po ok via allora vediamo wow tra l'altro anche questo qua sarà un film disponibile solamente su Netflix questo è Babbo Natale le lenne di Babbo Natale ecco qua che sta distribuendo i doni il buon Babbo Natale deve essere comunque sia veramente bello questo questo film wow ragazzi intanto la grafica è spettacolare a quelli gli attori forse non ho letto mi sta già piacendo questo trailer mi sta già purtroppo ragazzi tutti i maggior post dei film che stiamo per vedere appare uscirono solamente su Netflix però vabbè importante che escano che dire purtroppo è stato un trailer breve breve perché è arrivato un minuto e 40 e che dire purtroppo ne avevano solo uno di questi trailer e vabbè comunque sia vi saluto vi ringrazio per la visione se il video vi è piaciuto lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi e niente noi ci vediamo in questo video Ciao ragazzi